Le amministrazioni precedenti hanno creato un gravissimo scollamento tra l'amministrazione e i bisogni dei cittadini. Questa ferita va assolutamente suturata, bisogna riporre al centro la partecipazione, sarà uno dei nostri punti cardine del programma, la partecipazione dal basso, la costruzione dal basso nel più grande spirito civico che ci contraddistingue.